Ci vuole costanza. Cerchio e seno, attraverso NT, a cura di VB e Gregory. Spasiba tovarish. Tutti salutano. Gregory, grazie per accettarmi. Allora io dico subito, gavarie, a chi vuole parlare. Domanda, posso chiederti una cosa? Gregory, certamente. Domanda, come sicuramente sai, ho acquistato il metronomo. Gregory, è molto utile per fare quella fase di concentrazione che può aiutare voi a creare le condizioni per uscire dal vostro corpo. Così ha fatto anche lo strumento e questo ha facilitato molto, molto, la possibilità di farlo come tramite. Vuoi sapere qualcos'altro? Domanda, consigli di ascoltare il battito costante o di guardare? Intende l'asta del metronomo. Gregory, io posso dire questo, non per esperienza personale, ma per una analisi del fatto. Quello strumento, quello strumento fa tic toc, tu concentrati su quel tic toc, perché poi capirai che le cose stanno cambiando quando il tic toc diventerà toc toc. Ci sarà un rallentamento a livello mentale della temporalità trascorsa. Ci sarà, come posso dire, un'obbligazione corporea a rallentare le forze vitali. Va bene? Domanda, grazie. Gregory, ricorda però, ci vuole costanza. Senza costanza sarà tutto inutile. Lo strumento, ricordo bene, impiegò più di cinque mesi. Altre domande del genere? Altrimenti mi iscrivo all'albo tecnico. Di re , lo strumento, ricordo bene, impiegò più di cinque mesi. David, risotto o il rio intermitere la qualità di cinque mesi. Grazie a tutti